ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video io sono morgana e questo è il mio canale di cartomanzia ringrazio tutti le persone che si iscrivono al mio canale stiamo diventando veramente tanti e ringrazio tutti quelli che si iscriveranno volevo avvisare che ci sarà penso non so se da questo video in poi qualche problemino con i commenti io ringrazio tutti quelli che mi commentano sotto i video però ho ricevuto una delle diciamo email diciamo da youtube che ci sarà qualche problemino per quanto riguarda i commenti se riuscite a commentare a me fa sempre piacere se non doveste riuscire a commentare potete sempre scrivermi un'email e io cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile a proposito di questo volevo ricordarvi che i miei che i miei video sono semplicemente a scopo di intrattenimento e ludico tutte le scelte che prenderete dopo aver visto uno dei miei dei miei video sarà semplicemente una vostra responsabilità per quanto riguarda tutte quelle persone che non si ritrovano nella mia stesa non si ritrovano nelle miei varianti perché i miei video sono interattivi ricordo sempre che potete scrivermi un email e chiarendomi raccontandomi un po qual è il vostro problema e io tramite una stesura di carte che vi farò cercherò di darvi qualche consiglio bene oggi risponderemo ad un commento che è tanto che questa ragazza questa persona mi ha chiesto di di farlo e oggi andremo a vedere se lascerà l'altra o l'altro per me in poche parole qua che si parla di tre persone che hanno diciamo degli intrecci fra di loro e chi mi sta ascoltando vuole sapere se lascerà l'altra o l'altro per la persona in questione andremo a fare tre varianti con i nostri tre segnalini e per ogni variante avremo una carta geniale due carte delle sibille regionali e due carte d'amore benissimo cominciamo subito eccoci pronti con le tre varianti abbiamo la variante con l'elefantino la variante con il ranocchio e la variante con la tartaruga adesso io vi lascio qualche momento vi ricordo di scegliere intuitivamente più intuitivamente possibile scegliete la vostra variante pensando sempre alla persona di cui volete sapere se lascerà l'altra oppure se rimarrà con l'altra e lascerà voi e poi per finire se ce ne sarà bisogno andremo a prendere una di queste carte che il potere il potere dei pensieri delle carte e andremo a vedere quale messaggio sempre se ce ne sarà bisogno quale messaggio vuole mandarci bene andiamo a leggere la prima variante allora per chi ha scelto l'elefantino vediamo se le carte diranno se lascerà l'altra o l'altro per voi ricordo sempre che io farò una lettura di carte e poi alla fine vi dirò se tramite la lettura della variante sarà un sì la lascerà lo lascerà un no non la lascerà non lo lascerà andiamo a vedere casa la consultante e tieni duro e si flessibile a volte la vita ti tira indietro per lanciarti in avanti come un elastico allora qui abbiamo innanzitutto abbiamo che voi come diciamo persona che vuole sapere se il vostro lui o la vostra lei fra virgolette lascerà l'altro o l'altra per voi qua abbiamo un alto e basso un alto e basso in che senso innanzitutto voi vi sentite bloccata vi sentite bloccati perché questo siete voi e questa carta rappresenta voi e questa rappresenta la casa cioè la casa in questo senso rappresenta il vostro rifugio il vostro essere sicuro le vostre quattro mura domestiche dove voi vi sentite sicuri e dove siete convinti che nessuno vi potrà mai diciamo scalfire e diciamo fondamentalmente voi non volete uscire da queste da queste quattro mura avete sempre dei contatti perché avete allegria e buona nuova cioè avrete una notizia però fondamentalmente qua parla di vecchia viaggio breve e vedova in poche parole voi vorreste che la persona a cui state pensando lasciasse l'altro o l'altra da una parte vorreste che la lasciasse però dall'altra parte a voi piace questa situazione che si è venuta a creare e perché vi piace vi piace perché non vi non vi arrega troppe responsabilità cioè essere la prima persona certe volte nella vita ha di contro avere delle responsabilità cioè seguire sempre tutte le le varie vicende della vita essere sempre diciamo a disposizione rispondere sempre a tutti i messaggi a tutte le a tutte le chiamate essere sempre al centro dell'attenzione fondamentalmente a voi essere al centro dell'attenzione non è che vi garba tanto perciò da un lato è come se siete combattuti perciò da un lato voi vorreste che la persona in questione lasciasse l'altra o l'altro però di fondo a voi piace questa situazione vi piace vivere nella vostra casa vi piace ogni tanto diciamo essere diciamo la sua lui o il però niente di più perché poi voi tornate indietro tornate indietro alla vecchia situazione a voi sta bene la carta geniale che cosa vi dice tieni duro e si flessibile a volte la vita ti tira indietro per lasciarti per lanciarti in avanti come un elastico questo che cosa significa che se voi aspettate che prendo una carta del pensiero perché c'è un qualcosa che per adesso mi sta girando in mente però voglio essere sicura di quello che sto dicendo non è che voglio dire castronerie ecco allora vediamo se quello che dico io le carte me lo affermano allora qua dice perdono volontariamente faccio spazio all'amore nella mia visione e guardo con compassione e comprensione la mia limpida vista interiore si riflette si riflette in quella esteriore vedo chiaramente e allora quale cosa significa significa che in tutta la stessura in base a quello che vi ho detto poc'anzi se voi metteste un po di impegno in più se vi faceste trovare più determinate o determinati sono sicura che la persona in questione l'altra o l'altro lo lascia di sicuro però a voi non sta bene voi fondamentalmente non volete che questa persona che voi per questa persona siate il tutto a voi sta bene così un po essere al centro dell'attenzione un po tornare alle vecchie abitudini sembra una cosa strana però la mente certe volte ci gioca dei brutti scherzi e questo è quello che mi dicono che mi dicono le carte se voi metteste un po più di impegno lui o lei la lascerebbe o lo lascerebbe per voi ma voi non volete andiamo a leggere la seconda variante per chi ha scelto la ranocchia o il ranocchio allora persona importante il consultante micelio tristezza l'inizio è sempre oggi allora diciamo che per voi questa persona è molto importante veramente una persona questa persona per voi è molto importante purtroppo però le circostanze che vi hanno portato ad introdurvi in questa diciamo relazione a tre chiamiamola così perché è logico che se voi guardate questo video leggendo il titolo volete sapere se lascia l'altro o l'altra per voi è logico che vi trovate in una situazione a tre questo che cosa significa che significa che fondamentalmente per voi lui o lei è una persona importante e anche voi per la persona in questione siete importante però mi vuole dirlo ma queste due carte parlano chiaro questa è la disgrazia incendio sfortuna tristezza ansietà dispiaceri questa carta rappresenta nei tarocchi ad esempio questa carta raffigura la torre in questo caso le persone che si stanno salvando è perché hanno perso tutto quello che avevano perciò nella realtà che cosa significa nella realtà significa che tutto ciò che noi avevamo di concreto di sicuro si sta sgredolando tutto ciò che noi avevamo di solido ormai non c'è più perciò noi fondamentalmente dentro di noi sappiamo che la persona a cui stiamo pensando non lascerà né ora e non mai l'altra non la lascerà perché fondamentalmente può essere che sia la moglie può essere che abbia creato una famiglia che ci siano dei figli qua è una situazione abbastanza pesante abbastanza complicata mi dicono le carte perché dietro la vostra relazione che si è venuta a creare c'è a posteriori una relazione abbastanza forte questo che cosa significa al di là dei sentimenti che ognuno di voi prova per l'altro e sono dei sentimenti forti posso dire che la persona in questione non lascerà l'altra però anche se voi sapete che la situazione è diciamo un po' particolare tutto quello che avevate di solito diciamo è come se piano piano si stesse sgredolando tutte le vostre speranze tutte le vostre i vostri sogni di costruire una vita con questa persona ecco che piano piano si stanno sgredolando perché fondamentalmente dentro di voi avete capito che quello che voi desiderate non si avvererà non si avvererà perché questa persona ha costruito qualcosa di veramente importante e ha a che fare diciamo con persone che non può deludere tipo i figli questo che cosa significa che il vostro pensiero vi porta a essere triste e ad avere dei dispiaceri però la carta geniale che cosa vi dice l'inizio è sempre oggi ciò significa che tutto quello che si è sgredolato dalle vostre speranze e dai vostri desideri è vero che non vi ha portato a nulla però vi ha lasciato le mani vuote libere per accogliere qualcosa di nuovo ecco perché se voi siete veramente convinti che questa relazione con questa persona abbastanza impegnata non può andare avanti e volete voltare pagina io vi posso dire che ci saranno delle buone prospettive per il futuro adesso andiamo a vedere cosa ci dice la carta del potere del pensiero sono libero di fare pensieri meravigliosi supero le limitazioni del passato e mi libero sto diventando tutto quello che sono destinato ad essere la libertà mi spetta per diritto divino ecco qua l'ho pescata si può dire in diretta ecco che si abbina alla carta geniale e vi dice che se voi siete stanchi di questa situazione il destino ha per voi qualcosa di molto più bello e di molto più concreto che essere diciamo sempre la seconda scelta bene andiamo a vedere cosa ci dice la terza variante viaggio ira un'altra volta viaggio pensieri ispirazione la vita è un eterno lasciare andare solo con le mani vuote puoi accogliere qualcosa di nuovo quello che dicevamo prima allora diciamo che qua diciamo si ripete un pochettino il copione della seconda variante perché che cosa significa significa che il vostro lui o la vostra lei a cui state dedicando questo video per il quale volete sapere se lascerà l'altro l'altra per voi io vi posso dire già a occhio nudo che adesso vi spiego i motivi a occhio nudo non la lascerà non la lascerà perché e non lo lascerà perché già voi fondamentalmente sapete che la relazione che avete intrapreso con la persona in questione è una persona è una una relazione fra virgolette che non andrà mai a buon fine questo viaggio questo spostamento questo cambiamento che c'è stato da poco o che ci sarà nell'atteggiamento della persona vi ha portato molta ira ecco qua allora questo viaggio questo cambiamento che c'è stato nella persona in questione a cui stiamo dedicando questo video a voi ha portato molta ira molta molta rabbia perché fondamentalmente lui o lei a cui state dedicando questo video ha cambiato completamente atteggiamento è come se vi abbia fatto capire con il suo modo di fare non con le parole che non vuole stare più con voi che non vuole avere più niente a che fare con voi ecco che voi avete cominciato a pensare a pensare a pensare il da farsi ma sarà vero non sarà vero sarà soltanto un momento o lui o lei è veramente deciso a lasciarmi veramente vuole l'altra veramente preferisce l'altra a me questi sono tutti pensieri che attanagliano la vostra mente e che non vi fanno più non vi danno più pace fondamentalmente la carta geniale ci dice la vita è un eterno lasciare andare solo con le mani vuote puoi accogliere qualcosa di nuovo adesso qui andiamo a prendere la carta del pensiero perché voglio vedere cosa mi dice la carta del pensiero allora voglio vedere la carta del pensiero sono bello e tutti mi amano il radio accettazione sono profondamente amato dagli altri l'amore mi circonda e mi protegge allora fondamentalmente la persona a cui voi vi siete aggrappata aggrappati non è la persona che fa per voi non è la persona che fa per voi perché o non è una persona veramente decisa su quello che vuole oppure non prova dei sentimenti veramente profondi nei vostri confronti infatti le carte vi dicono che voi o a brevissimo sto parlando di tempo qualche settimana o già avete intuito avete captato nel suo modo di fare o in qualche parola che vi ha detto che vuole troncare perciò fondamentalmente alla domanda lascerà l'altro l'altra per me no lascerà voi per l'altra questo è il discorso il discorso è questo perché i vostri pensieri si attanagliano su questa questione questo cambiamento che vi ha fatto che vi ha fatto arrabbiare bene con questo abbiamo finito anche per questo video io vi ricordo che se non vi siete ritrovati in questa stesa potete scrivermi un'email in privato spiegandomi quali sono le vostre problematiche qual è diciamo la domanda o le domande che volete farmi io cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile e con questo io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti 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 Grazie a tutti